Questa signora, queste signore sono state già arrestate altre volte. Allora è vero che c'è una norma di legge per cui se tu hai un bambino al di sotto dei sei anni o sei incinta, vieni protetta, eccetera, salvo i casi più gravi. Quindi c'è anche un problema di giustizia, perché noi possiamo mettere tutti i presidi, possiamo avere tutte le forze dell'ordine, la polizia che già hanno tante difficoltà, però se poi tu prendi delle persone che rubano e non stanno in galera... Cioè se non è la certezza che sì, nel momento in cui tu sei in uno stato nel quale il ladro non sconta la pena e può uscire per 70 volte, oltre a rischiare poco, allora a questo punto perché gli altri cittadini devono essere onesti se queste persone che sono disoneste non fanno mai un giorno di galera? C'è anche un problema di giustizia.